Sesto giorno ad Oronzo di Cadore per la truppa bianco-celeste. Oggi test contro la selezione della cittadina Veneta. Ieri però è stato il giorno di Felipe Anderson. I tifosi lo hanno atteso a lungo fuori dall'hotel. L'ex Stella del Santos è arrivata alle 8 circa in compagnia di Eddie Onazzi. Sono molto felice, questo è un sogno, ha ribadito il brasiliano, visibilmente emozionato per l'accoglienza. Il brasiliano è sceso in campo questa mattina per raccogliere l'applauso dei nuovi tifosi. Il Petkovic ha provato la difesa a 3 e a 4. Nel terzetto il tecnico ha schierato Biava, Dias e Siani. In conferenza stampa ha intervunuto Cristian Ledesma che ha parlato del nuovo acquisto Biglia. Ben vengono i giocatori così, noi dobbiamo pensare alla Lazio, non dobbiamo pensare che se viene uno che gioca nel mio ruolo cambiano le cose. Non cambiano. A livello personale a me mi può portare Richel, mi può portarmi alla donna. Io so quello che posso dare alla Lazio. Così come lui sa quello che viene qua e può dare, poi decide il campo, decide il mister. Ledesma è uno dei punti fermi da cui ripartirà già oggi pomeriggio Mr. Petkovic. Intanto stasera nella piazza del paese, grande concerto con Enrico Lenni e Tony Malco. Da Oronzo Dicatore è tutto, Matteo Vana, la Lazio siamo noi, WebTV. Grazie a tutti.